Monarch. Era lì, a San Francisco. Sembrava che l'intera città stesse crollando. Quei tizi scattavano foto, come se lo stessero aspettando. Credi che tuo padre lavorasse per loro? Questa roba era nella sua cassaforte. Chi siete? Cos'è Monarch? Questo è il mondo in cui viviamo. I mostri sono una realtà inevitabile. Quei file appartengono a noi e sono più importanti di quanto tu possa immaginare. Tutto questo mi farà venire gli incubi. Potete bervi le stronzate di Monarch. Su vostro padre è scomparso. Papà! Oppure possiamo andare subito via da qui e scoprire cos'è successo. Oh mio Dio, vai, vai, vai! Questo mondo non è nostro. Credimi. È incredibilmente più vasto di quanto si potesse immaginare. Questi mostri e Monarch mi hanno portato via tutto. Ora basta. Correte! Il mondo è in fiamme. Se volete salvare milioni di vite, abbiamo bisogno di aiuto. Corpo. Prezi e райone nel libro per la mano del questo arrivo della Grazie a tutti